Questa mattina qui a Gifoni c'è stata la prima ospite internazionale, ovvero Michaela Riera, la star di Disney Channel nella nuova serie che si chiama Cata e i misteri della sfera. E questa è lei che è arrivata per il photocall, molto bella, giovane, fresca, per chi non lo sapesse, Cata e i misteri della sfera racconta gli amori, i sogni e le ambizioni della giovane Catalina, appunto, Michaela, e di un gruppo di ragazzi che frequentano la scuola d'arte della città di Laguna de Zeda e d'improvviso le loro vite vengono sconvolte perché arrivano due ragazzi perfettamente identici che sono due cloni provenienti da un'altra dimensione e ovviamente si innescano tutta una serie di connessioni che vi lascio immaginare. La prima serie è stata veramente un successo anche qui in Italia, c'è già in lavorazione la seconda serie, che, insomma, vi lascio con lei che arriva. E quindi questo è stato l'arrivo di Michaela Riera, seguite Fauno, vi raccontiamo il cipone. Resto tantissime altre interviste. Ciao!